ciao a tutti e benvenuti al nego kuraku ultimo video dell'anno 2013 oggi è il 31 dicembre quindi ultimissimo video sul filo di lana per quanto riguarda quest'anno e quale migliore occasione appunto dell'ultimo video dell'anno se non quella di fare un bilancio su quello che è stato il 2013 fumettistico e infatti in questo video come avrete già visto dal titolo si farà una classifica la classifica di quelli che sono stati i miei fumetti preferiti durante l'anno 2013 si terrà conto solamente dei fumetti usciti nell'anno 2013 quindi ovviamente ci saranno anche dei fumetti vecchi delle cose pubblicate in giappone o in terra d'origine diverso tempo fa ma comunque solo pubblicazioni italiane del 2013 detto questo partiamo subito saranno 15 posizioni in una classifica generale diversamente da quanto ha fatto gli scorsi anni in cui appunto c'era un distinguo nelle classifiche tra shonen seinen e gli altri generi gli altri target appunto fumettistici quest'anno forse è uscita un po meno roba di spessore come ovviamente notato da molti complice la crisi complice forse anche una crisi un po di idee del mercato nazionale e quindi ho preferito comunque raggruppare il tutto in un unico video generale quindi senza distinzione fra generi ma solamente una classifica delle 15 posizioni di ciò che mi è piaciuto di più partiamo quindi appunto dal quindicesimo posto ovviamente con le mie palle o retama uno dei pochi manga comici che sono usciti quest'anno è una sorpresa avevo già detto qualcosa prima di comprarlo ovviamente e il volume ha confermato delle mie aspettative uscito nella colonna black magic di magic press quindi classificato sotto entai ma più che altro io lo considero comunque un manga comica me l'entai non piace molto come genere quindi nonostante ovviamente si veda qualcosa di erotico secondo me il genere è più comico appunto ed è un manga di shigemitsu arada su disegni di takairo seguchi e in cosa consiste le mie palle un demone viene rinchiuso nelle palle di questo ragazzino che vediamo qui sopra che è un verginello che con la passione delle donne ovviamente come tutti lui ancora di più visto che non ha ancora assaggiato il frutto proibito e è innamorato della sua collega di lavoro dove lavora dove lavora in un piccolo mini market e un giorno si vedrà appunto diciamo catapultarsi nelle sue palle nei suoi testicoli un demone è imprigionato da da millenni la regina dei demoni e da lì in poi appunto lui dovrà far di tutto per non farlo uscire questa regina e invece le diavolette come la ragazzina la diavoletta che vediamo qui in copertina dovranno far di tutto per far uscire la loro regina dei demoni e come far uscire la regina dei demoni dalle palle di un ragazzino verginello e per chi non se ne è ancora immaginato consiglio di leggere il volume di cui è uscito solamente per ora il primo volume alla quattordicesima posizione troviamo un classico di naoki urasawa ovvero master kiton che sta uscendo per planet manga su testi di okusei katsuika e il fido takashi nagasaki master kiton è stata una delle opere di maggior successo di urasawa e che ancora mancava in italia e appunto la planet ha colmato questa lacuna proprio nel 2013 parla di iraga kiton che è un ricercatore un archeologo un professore universitario quindi una persona con un grande sapere e un ex agente di una di una corporazione appunto militare super addestrata alla guerra ea tante altre cose infatti kiton si troverà puntualmente invischiato in affari pericolosi in qualche modo riuscirà sempre a spuntarsela è abbastanza basso in classifica perché mi aspettavo qualcosa di più nel senso che comunque non vediamo la grande storia orchestrata da da quello che è il classico naoki urasawa ma bensì almeno fino al quarto volume che è l'ultimo uscito una struttura più episodica di comunque brevi saghe molto bene orchestrate però appunto non di lungo di grande respiro al tredicesimo posto troviamo prophecy di tetsuya tsutsui un autore di cui è già stato pubblicato molto materiale in italia come manhunt da zant e reset è pubblicato da jpop saranno tre volumi e questo è il primo cliente parla di dei ragazzi che si trovano in giappone chi di chi giapponese chi è straniero a fare i lavori più umili sottopagati e abbastanza quasi schiavizzati dai propri datori di lavoro e che a un certo punto comunque decideranno di ribellarsi a questa cosa come fare nel ventunesimo secolo appunto a mettere in atto questa sorta di di guerra contro il sistema se non su youtube e sulla rete quindi un manga molto attuale che denuncia la società giapponese non solo quella e pone il l'obiettivo sul cyberbullismo e tutto quello che riguarda che gira intorno a questo fenomeno il prossimo manga alla dodicesima posizione è un manga che era già stato pubblicato in italia ma che ha visto una nuova veste editoriale una nuova edizione quest'anno grazie alla goen e si tratta di detroit metal city di kiminori wakazugi che è stato anche ospite della goen quest'anno se non sbaglio al comicon di napoli e detroit metal city come potete vedere in copertina presenta questo personaggio molto bizzarro che è il leader di una band hard rock il leader di questa band hard rock che appunto inneggia testi satanici stupri e chi più chi più ne ha più ne metta ma che in realtà è altro non è che un grosso tenerone che appunto voleva solamente sfondare con la sua musica pop molto tranquilla e che rimane invece invischiato in questa band gag esilaranti quant'altro faranno pisciare addosso il lettore all'undicesima posizione troviamo il primo fumetto occidentale della classifica ovvero y l'ultimo uomo che sta venendo sta lo sta pubblicando appunto la lion e in formato bonellide dopo che era stato già pubblicato in italia in formato appunto più grande e pregevole di brian vogan e pia guerra y l'ultimo uomo parla appunto dell'ultimo rappresentante delle cromosoma y ovvero il protagonista di questa storia che rimane appunto apparentemente l'unico uomo sulla terra dopo una sorta di epidemia che lo stesso giorno alla stessa ora stermina tutti i rappresentanti di sesso maschile della terra ovviamente il mondo viene sovvertito le cambiano le sue regole tutti gli uomini al potere sono morti e quindi le donne prendono il loro posto si formano gruppi di amazzoni che covavano in seno una rabbia contro gli uomini devastante e quindi il nostro protagonista si troverà appunto a fronteggiare oltre al fatto di essere rimasto l'unico uomo sulla terra l'unico rappresentante maschile sulla terra solo insieme alla sua scimmia anch'essa di sesso maschile appunto si troverà davanti una cosa uno scenario apocalittico che farebbe paura a chiunque nonostante la fortuna di essere rimasto con tutte le donne del mondo a disposizione in decima posizione troviamo un classico del fumetto giapponese ovvero Dororo di Osamu Tezuka anch'esso pubblicato dalla Goen pubblicato per la prima volta in Italia interamente mentre nel tempo fa la Kabuki Publishing aveva pubblicato solamente i primi due volumi di Dororo parla di due ragazzini che si incontrano tra cui appunto il nostro Dororo e legano i loro destini uno di essi l'altro protagonista è stato sacrificato ai demoni appena nato per la sete di potere del padre che appunto era un signore feudale dell'epoca in Giappone e Dororo invece un ladruncolo che appunto viveva di espedienti si incontreranno e legheranno indissolubilmente le loro vite in un'avventura in quattro volumi che li porterà ad affrontare demoni e mostri umani di vario genere alla posizione numero nove troviamo un'altra opera di Naoki Urasawa ovvero Yawara quello che è in effetti la prima opera di grande successo di Naoki Urasawa scritta completamente da lui e pubblicata sempre da Planet Manga Yawara pubblicato in questo formato che a me non piace che è il Bunkoban soprattutto pensando che in Giappone sta uscendo una perfect edition proprio in questo momento e parla appunto di Yawara Inokuma la ragazza che vediamo in copertina che è una grandissima judoka il nonno l'ha allenata fin da piccola e ha per lei in mente solamente una cosa ovvero la vittoria alle Olimpiadi e l'onore il riconoscimento dell'onore al merito da parte del governo giapponese e non si darà vinto finché Yawara non perseguirà questi obiettivi mentre la ragazza vorrebbe solamente avere una vita normale come qualsiasi studentessa della sua età all'ottava posizione abbiamo Ressentiment un manga di Kengo Anazawa famoso autore in Italia per I Am A Hero Ressentiment è una storia molto particolare di un ragazzo sui 30 anni che anche lui come il protagonista di Le mie palle di donne nella sua vita ne ha viste ben poche e che quindi sul suggerimento di un suo amico un certo giorno si rifugia in un software molto in voga nel Giappone nel periodo narrato in in questa opera e che è un software di appunto appuntamenti virtuali ben più evoluti di quelli che sono i giochi di appuntamento odierni e e lì finirà in un mondo molto particolare perché ovviamente poi il software che comprerà rivelerà un difetto che vedrete appunto leggendo il volume l'opera successiva al numero 7 è Sakamishin o Apollon chiamato in Italia Gemmin Apollon dalla Planeta Manga una delle cose che ha fatto storgere il naso agli appassionati in effetti è un titolo orripilante e ci sono diversi adattamenti che fanno un po' sorridere all'interno dell'opera di Yuki Kodama in 10 volumi una storia su dei ragazzi negli anni 60 in Giappone che si conoscono nell'ambito delle scuole superiori e scoprono di avere una passione in comune ovvero quella per la musica chi per il rock chi per la musica jazz e cominceranno comunque ad andare appunto nella sala prove di una ragazza di cui il protagonista è innamorato e in quella sala appunto cominceranno ad unire le proprie passioni per la musica disegnato in un modo che a me piace molto rende molto bene l'atmosfera degli anni 60 e è davvero un'opera molto carina secondo me su sulle storie dell'adolescenza appunto dei ragazzi al posto successivo avvero al 6 abbiamo Jojo Leon di Hiroiko Araki la ottava credo nona serie di Jojo non mi ricordo sinceramente ho perso il conto e comunque una serie davvero ottima di Jojo che si riprende decisamente dopo Stillborn Run che era stata una buona serie ma comunque all'interno dell'universo Jojo forse uno dei punti più bassi Jojo Leon ci riporta all'epoca subito successiva a Stillborn Run che ricordiamo era ambientato nell'ottocento subito successiva a Stillborn Run e subito precedente alla terza serie di Jojo quella ambientata a Morio Cho infatti siamo sempre a Morio Cho e inizialmente vediamo uno dei protagonisti che appunto uno dei protagonisti della serie della terza serie di Jojo ovvero Yoshikage Kira Yoshikage Kira che però forse non è Yoshikage Kira che viene ritrovato da una ragazza sotto a delle strane malformazioni del terreno che sono apparse nella cittadina di Morio Cho in seguito a un disastro naturale e anche lui ha delle particolarità infatti ha tre testicoli e quindi la ragazza rimane un attimino sconvolta trovandola appunto nudo sotto questa sorta di cavità del terreno e il ragazzo ovviamente non si ricorda nulla e quindi andremo ad esplorare appunto quello che è il suo passato e se effettivamente il ragazzo sia o meno Yoshikage Kira e entriamo nella zona calda al quinto posto abbiamo Fables di Bill Willingham pubblicato da Arvulion anche questo in formato Bonellide una storia che parla delle favole quindi un agglomerato di favole della cultura classica occidentale che vengono catapultate all'epoca dei giorni nostri e in seguito a uno scontro con un grande nemico che le ha scacciate appunto dalle loro terre natie e quindi si rivolgono appunto cioè si riversano nelle metropoli e qui dovranno ovviamente avere nuova identità nascondersi agli occhi degli umani che altrimenti li prenderebbero ovviamente subito di mira e quindi cercare di passare di avere una nuova vita in qualche modo molto molto bello fables una storia originalissima e disegnata bene dai vari disegnatori che la disegnano come l'Anne Medina o altri Mark Buckingham ad esempio che si susseguono in quest'opera però sono tutti davvero ottimi ottimi disegnatori che rendono benissimo poi questa atmosfera un po' sognante ma allo stesso tempo cruda di c'era una volta fables passiamo alle posizioni del prepodio quindi le prime cinque posizioni alla quinta abbiamo scusate alla quarta quindi siamo già nel prepodio vero e proprio abbiamo Seven Shakespeare's di Harold Saquish l'autore dello stupendo Beck che consiglio di leggere a tutti Seven Shakespeare parla appunto di Shakespeare ma soprattutto di quelli che sono stati gli anni bui di Shakespeare e di cui non molto si è parlato nei documenti ufficiali e nelle varie bibliografie dedicate al grande drammaturgo inglese e quindi appunto come è arrivato a diventare Shakespeare in realtà più che al resoconto della sua vita di successi una serie di cui è finito il primo arco narrativo un attimino in pausa Saquish per quanto riguarda questa serie e speriamo che riprenda presto per appunto consegnarci i volumi che probabilmente costituiranno l'arco narrativo finale al terzo posto quindi adesso siamo ufficialmente nel podio abbiamo Rainbow di Masasume Kakizaki e George Abe una storia di cui molti avranno visto l'anime che è stato un anime di successo qualche anno fa non mai pubblicato in Italia mai trasmesso in Italia ma comunque che si può comunque trovare molto facilmente con un opening tra l'altro che rispecchia molto l'amore di Kakizaki per il metal che a proposito tramite titoli di band di band di canzoni heavy metal nomina tutti i suoi capitoli e parla di sei ragazzi che si trovano nel pieno dopoguerra seconda guerra mondiale in una scella del riformatorio shonan in questo riformatorio ovviamente le cose non saranno per niente facili la gente muore ancora di fame nelle strade figuriamoci comunque in un riformatorio dove questi ragazzini saranno un po' alla merced di secondini estremamente crudeli e direttori sadici che li molesteranno ogni volta che per loro sarà possibile e solamente l'unione dei loro cuori delle loro anime in un certo senso in un'unica cosa sola proverà a dar loro una mano per poter appunto andare avanti in quelli che erano veramente giorni devastanti per questi ragazzini appena adolescenti al secondo posto abbiamo la cronaca degli insetti umani di Osamu Tezuka di cui non sto neanche a parlare perché ho fatto già un video su questo volume splendido e quindi vi consiglio di andarlo a vedere è qualche video qui sotto e se mi ricordo vi lascerò comunque il link e quindi partiamo arriviamo direttamente anzi alla prima posizione e andiamo a concludere qui il video con Ichi The Killer di Hideo Yamamoto molti di voi avranno probabilmente visto il film diretto da Takashi Mika molto crudele molto violento ma che in confronto alla manga sembra comunque una favoletta per bambini Ichi The Killer infatti presenta le perversioni più scure del popolo giapponese che di perversioni se ne intende nella figura principalmente di Ichi questo ragazzino di cui alle scuole superiori e medie tutti i bulli hanno abusato picchiandolo e molestandolo in qualsiasi modo e che diventa un esperto in arti marziali e metterà questo al servizio di una sorta di clan di Reietti che cercherà di rovesciare un po' le politiche della Yakuza di Tokyo e contro di lui e contro di loro si metterà un altro personaggio che forse è ancora più deviato di Ichi e della sua banda ovvero Kakiara che è appunto il fido braccio destro di un boss della Yakuza che verrà ucciso nel primo volume e che quindi appunto cercherà vendetta poi nei restanti volumi di quest'opera contro il clan di Ichi un'opera violenta estrema che fa anche riflettere ma regala momenti anche di evasione per chi ama appunto questo genere di storie è davvero tutto per quanto riguarda questo video io vi auguro ovviamente buon anno che sia magari migliore del 2013 in tutti i sensi e per tutti voi e ovviamente se vi è piaciuto il video condividetelo ricordatevi che c'è un canale c'è una pagina Facebook dove vengono pubblicati altri contenuti inerenti sempre al mondo del fumetto che è il Nego Kura Kobaykirio di cui vi lascio il link qui sotto e fatemi sapere qual è un po' la vostra classifica dei fumetti che avete amato di più in questo 2013 e che il 2014 ci porti tanta altra roba bella da leggere magari anche un po' di più quindi è davvero tutto ancora auguri e a presto a presto a presto